Ho ottenuto un'intervista con Roland Pollan. Oh no, dai, ma è incredibile. E' qui al campus? E' a Manhattan. Dicevamo sempre di andare a New York per un weekend speciale. Sarà una cosa fantastica. Più tardi possiamo fare un giro in carrozza? Sì. Se non piove. Lei è senz'altro il più interessante regista d'America. Questo è il tuo primo incarico importante. Ti andrebbe una chicca. Cosa? Non posso venire a lunch. E perché? Sta attraversando una vera crisi artistica. E' una chicca. Gatsby, mi fa piacere vederti. Anche a me. Che stai girando? Sto cercando di creare un moderno noir classico, diciamo. Ok, capisco. Vuoi una parte? Ciao. Vogliamo procedere? Ehi, ma tieni la bocca chiusa? Io ho una ragazza, non so se lo posso fare. 19, seconda. Azione. Josh, comincia a piovere. Stop. Visto? Ce l'hai fatta. E non lo dirò alla tua ragazza. Ashley, ma che succede? Avresti dovuto chiamarmi mezz'ora fa. È un film da 70 milioni di dollari e Rolly è molto insoddisfatto. Lo chiami Rolly? Sì, e io e Ted dobbiamo trovarlo prima che gli prenda una delle sue crisi. Chi è Ted? Chi era? Il tuo ragazzo? Sì. È un po' eccentrico. Rolly? Oh mio Dio, lei è Francisco Vega. È una cosa brutta? La mia amica la trova la cosa più favolosa dopo la pillola del giorno dopo. Francisco Vega è in città, al braccio della sua ultima fiamma. La mia ragazza mi ha mollato per un divo del cinema. Che ci fai qui tutta sola? Faccio avverare i sogni. E come ci riesci? Costo 500, piccolo. Ti va di fartene 5.000? Mamma, questa è la mia ragazza, Ashley Enright. Sarà meglio che ti scegli una professione, una così non vive a bocca larga e mano stretta. Buffa scelta di parole. A quanto pare ha in mano una grossa storia, prende il suo lavoro sul serio. Non dovrei bere così copiosamente. Divento passionale, aggressiva, assurda. Già. Ciao, Ashley. Non ti posso parlare adesso. Che cosa mai ci può essere di tanto segreto? A meno che non stiano succedendo strane cose. A meno che non stiano succedendo strane cose. Questa è la vita reale. La vita reale è per chi non sa fare di meglio. Doveva essere solo una pidocchiosa intervista di un'ora. Invece abbiamo perso tutto il weekend. Ho in mano una grossa storia. Togliteli impermeabile. Non posso. Sotto non ho niente.